Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, questo è il momento più atteso dell'anno ragazzi, un momento in cui io stesso fremevo per averlo tra le mani, sto parlando ragazzi di Uncharted 4 alla fine di un ladro, questo sarà il gameplay più epico di sempre. E ragazzi, vi ricordo che noi non siamo qui per giocare Uncharted, noi siamo qui per vivere Uncharted. Ok ragazzi, si, inizia subito. Schermata nera, già cominciamo bene, non parte? Non parti? Oh dai che parti, forza! Ah, caricamento. Sono un uomo di ventura, fratello di Simona che saluto, ci segue da casa, ciao Simona. Ma quando è tornata dall'isola dei famosi non mi caga più. Bene, iniziamo davvero bene, sta già piovendo, siamo in una nave? Su una barca? Siamo su una barca? Già non va per niente bene, ragazzi. Ma che cazzo si deve reggere? Oh, attento! Eh, ci sono coglioni che ci seguono qua da dietro. Oh, spingi sull'acceleratore, sbrigati. Porca merda, che stai facendo con quella cosa? Dobbiamo accelerare? Perfetto. Dove cazzo è l'isola? Dove la vedi? Ma non si vede un cazzo? Ma poi che cazzo sono questi che vogliono da noi? Aspetta, ma su serio? Cioè, ma stai sparando alle barche con quella pistolina? Oh, tu le vedi dalle palle! E il primo è andato. Cazzo, ma ce ne sono un casino, un'infinità. Oh, tu vieni qua. Porca troia, da tutte le parti. Oh, ma stai sparando a quello? Ma poi che cazzo devi fare con quella pistolina? Qua ci vuole minimo un bazooka. Oh, acchiappalo. Perfetto così. Oh, a destra, a destra. Cavolo mia, ha quasi scappato questo. Sono volati da tutte le parti, avete visto? Questo è epico, bellissimo. Oh! Oh, cazzo. Questo ci sfonda. Questo ci sfonda! Oh, un bazooka! Ma ancora spari con sta cosa? Attenzione alla bomba! Cacca miseria. Oh, schiva, 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 schiva qua. Oh, la droia, quella ci ha quasi preso. Che cazzo vogliono questi da noi, poi? Merda! Oh! Non ero saltato sulla barca? Riemergere. Certo che riemergiamo. Veloce pure. È un video, questo? Certo, qua ha una grafica talmente bella che non si capisce tra il video e il gioco. Oh, l'elica, l'elica! Ma porca troia! Per un pelo! Oh, cerchiamo di risalire, veloce! Sto bene! Sto bene! Non stai bene un cazzo, però. Dai! Cioè, non funziona più la barca? Cioè, siamo nella merda più totale, ragazzi. Eh, certo, ci mitragliano qua senza pietà. Oh! Tu hai rotto il cazzo, eh? Proprio in faccia che abbiamo ridato, quello. Merda! Dai! C'è un barile, quello cos'è un barile? No! Non fai secca a tua sorella, tu coglione! Quello un razzo! Oh, mi hai retto le palle! Bellissimo! Che esplosione impressionante! Ma che grafica, ragazzi! Che ti pareva? Oh, veloce! Qua ce n'è uno solo? Anche questo è solo? Vabbè, queste sono cazzate, dai! Tu con la barca come sei arrivato? Come siamo combinati? L'hai aggiustata la barca? L'hai fatta a posto? Oh, ti levi dalla copertura? Che palle! Cazzo, non si sgancia! Ok! Vai, veloce! Ci stanno facendo stare uno scolapasta, proprio! Dove cazzo li vedi? Merda! Dobbiamo pure schivare questi! Che palle, però! No, direzione sbagliata, aspetta! Sì, impossibilissimo, proprio! E poi che cazzo ce l'ha messo, sti scogli qua, proprio così? Porca troia! Oh! Che c'è? Merda! Nathan, un cazzo! Ma dove cazzo arrivava? E poi chi cazzo spara ancora? Chi è? Chi è? Nathan? Nathan! Cazzo vuole? Mmm... Ormai sarai stufo delle mie prediche! E io sono stufa di ripeterle! Devi andare bene a scuola, Nathan! E ora dovrai stare qui con me per il fine settimana, invece di andare in ritiro con gli altri! Non mi importa! Sembra un orfanotrofio, credo! Questo è il vero problema! Perché devo essere l'unico a stare in punizione? Perché hai iniziato tu la rissa! E chi l'ha detto? E non voleva ridarmi il mio libro! E fa! Giusto! Ma è ammazzato? Ammazzato, vero? Brava! La colpa è soltanto tua! Questo non gli dà il diritto di rubarmeli! Quindi pensi che ti dia il diritto di tirargli un pugno! Ma c'è, è ovvio! Se uno ti ruba una cosa, minimo lo devi ammazzare, non un pugno! Per cosa, Andure? Niente! Tra l'altro mi sembra dal livido sotto l'occhio che l'ha pure presa lui! Nonostante i miei sforzi, sembri davvero deciso a ripetere i tristi errori di tuo fratello! È un peccato! Che ricordiamo che è quello nella barca con la pistolina! Che secondo lui doveva abbattere la nave! Non è un buon esempio, secondo me, quella persona! Che succede? Ah, qualcuno ci sta chiamando col... Suo fratello! Ok, evadiamo da questa prigione di merda! Dobbiamo buttare dalla finestra? Vai, dopo una bella scalata alla Tomb Raider... Sì, domani! Troppo scivoloso! Infatti! Dobbiamo scalare alla Lara Croft! No, da lì ci impaliamo, secondo me! Scendiamo da qua! Scivoliamo! Ci infanghiamo tutti! Proprio alla Lara Croft! Perfetto! Dobbiamo entrare da qua! Siamo appena usciti! Ehi, fai piano! Sì, pianissimo! Adesso arriva qua la madre superiore e ci bacchetta sulle genatiche! Quindi, secondo me, la suora ci scopre e ci corre appresso! Eccola qua! Ma noi degli altri ce ne fottiamo! Questa è una bastarda! Ci sta... Mettendo in difficoltà con quello col parroco là! Sta troia! Oppure sospiri! Ma ti do una bacchettata in faccia e te lo faccio vedere io se sospiri! Usciamo da qua che già i nervi mi vengono! Forse dovevamo prendere dalla porta da l'altra parte! Che è sta cosa? Com'è tuo fratello? Questo sei tu! Ah, Sir Francis! Se prendiamo la suora alle spalle e la strangoliamo senza alcuna pietà? Io ho quasi quasi un pensierino e ce lo faccio! Chissà se si può fare! Devo arrivare a quella finestra! Quella là, proprio! Qualcosa mi dice che... Ci scoprirà! Dove cazzo è andata? Uh, eccola qua! Sì, proprio dove devo andare io se ne è andata sta zoccola! Sta fumando! La bella troia di sorella che sei! C'è qualcosa per attirarla a questa? Sì, se usciamo da qua mi vede questa! Aspetta adesso! Pazzo per un pelo! Sì, fuma, fuma! Poi quando ti viene il cancro poi mi dici! Ah, arriva da qua! Ah, ti cagli del parroco, eh! Te la fai addosso! Quindi usciamo di qua che a questa la ammazzo! Uh! Piano che qua siamo al terzo piano! Uh! Se cadiamo là sotto ti sfracelli, proprio! Diventi parte integrante del pavimento sottostante! Ah, arriva! Cazzo che giro però! Non c'era una strada più corta da fare! Tre ore che cammino! E' così fatta! Eh, sì, adesso la grondaia si stacca! Perfetto! Mancabilmente adesso si spezza! Sì, perfetto! Lo sapevo! Come Tomb Raider! Ah, adesso l'acqua sporca ci lava la testa! Siamo arrivati però, giusto? Sam, dove cazzo stai? L'ho lasciato la torcia e se n'ha nato! Dove cazzo è? Ah, ci fai pure gli scherzetti! Ma ti darei due papagne in faccia che ti riformerei! Cazzo? Ci hanno pestato! Dovresti vedere l'altro però! Il fatto di non cacciarti nei guai? Ci spalava merda addosso! Ma allora? Ha detto che papà ci ha scaricati perché siamo un peso! E mamme all'inferno per... Nathan, dai! Lo dicono solo perché sanno di ferirti! Ma forse è vero però! Devi imparare a ridurre su questo! Tu non ridi! E' infatti! Fai quel che dico, non quel che faccio! Tieni! O prendi freddo! Sì, c'è una magliettina qua! Vorrei vedere! Perché se... Poi ti viene la bronchite! Se le suore ti beccano chiameranno la polizia! Ho un regalo per te! E non può aspettare Natale! Ok, dammelo! È qui fuori! Ehi, non cacciarsi nei guai? Beh, questa è un'eccezione! Ragazzi, il primo video di Uncharted 4 finisce qui! Beh, bellissimo ragazzi! C'ha una grafica pazzesca! Spero di portarvi un video al giorno o anche di più! Se non siete iscritti iscrivetevi! Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto! Ragazzi, un saluto e ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao!